Quando poi il cliente comincia a commissionarmi lavori a ripetizione e il portfolio si autoalimenta di lavori commissionati, c'è però un rischio. E cioè, il portfolio diventa l'antologia, l'antologizzazione, la scelta delle cose migliori dei lavori che mi sono stati fatti fare. Ora, se però i clienti mi commissionano lavori senza fidarsi eccessivamente delle mie capacità, e quindi mi danno lavori da poco, perché sono clienti da poco e le produzioni sono ancora da meno, l'antologia che costituisce poi il mio portfolio è un'antologia da poco. E cioè, è la scelta delle cose migliori che mi sono state fatte fare fino a quel momento, ma se fino a quel momento mi sono stati fatti fare lavori sfigati, anche l'antologia è un'antologia di lavori sfigati. A lato, per dimostrare che sarei capace di ben altro, c'è poi la ricerca personale, la ricerca creativa. Sezione del portfolio nella quale dimostro che, oltre alle cose banali che mi fanno fare i clienti quando mi fanno lavorare, io sarei capace, sono capace di fare elementi importanti. E quindi il peperone in bianco e nero alla Weston, in post-produzione un orologio a molle da lì sul bordo del tavolo, ricerca che però, con ogni probabilità, anche il mio cliente non sa leggere, non sa capire, non sa interpretare. Ed ecco che si spacca il portfolio in due. Antologia di lavori sfigati che testimoniano la realtà lavorativa. Raccolta di pretenziosi tentativi di fare qualche cosa in più, che però testimoniano lo scollamento che ho rispetto alla realtà lavorativa. C'è un modo per spezzare questo circolo vizioso. Ed è questo. Quando il ragionier Gianazza, titolare di una bella azienda che produce bulloneria ai viti, mi chiede di fargli un catalogo di fotografie di 1200 suoi bulloni scontornati su fondo bianco e vuole pagarli un euro e 63 a scatto perché che un fotografo di prima gli pagava 1,65 ed era troppo, io gli posso fare un lavoro ben fatto, come lui lo desidera, curando tecnicamente il dado di metallo riflettente con le scurite su qualcuna delle facce esagonali di questo dado e corrando che il bianco non spari nel bianco del fondo, bla bla. E gli faccio un lavoro come un fotografo professionista, con i controfiocchi, può fare, d'accordo. Ma questo è quello che mi ha chiesto lui. Quando ho finito di fare quel lavoro, col tempo che mi resta, che mi faccio restare, coi suoi bulloni, con la sua viteria, con quel materiale che è lo stesso materiale che il cliente mi ha messo sotto il naso per fare il suo lavoro da poco, allora sì che mi do io fiducia, quella fiducia che il cliente non mi ha dato, e faccio una produzione creativa di ricerca, però con quegli oggetti. In quella situazione, se era un reportage, in quel frangente, se è un ambito che devo descrivere, in maniera da dimostrare a me stesso, primo, e al cliente che mi aveva dato poca fiducia, pochi soldi e un brutto lavoro, che se lui mi desse, e mi desse in futuro fiducia, io sarei in grado di fare non solo il dado, il bullone, la vite su fondo bianco, ma guarda qua, cosa? Se la fiducia che riponi in me mi fa lavorare, mi lascia muovere. Questa possibilità, e cioè di fare ricerca sui lavori, usando come terreno per la ricerca creativa i lavori che mi vengono commissionati, apre la strada a due aspetti positivi. In primis, che io dimostro al cliente che il darmi fiducia può produrre cose per lui utili. Oh, attenzione, se lui mi ha chiesto e vuole comprare dei calzini, e io gli dimostro di sapere fare anche dei cappotti, non gli vendo poi un cappotto al prezzo del calzino. Cioè, fuori di metafora, il lavoro creativo e strutturato che ho fatto per mia ricerca personale, glielo faccio, glielo sventolo sotto il naso, ma non lo vendo per un euro, e cos'era, 63. Il cliente però sa che in futuro potrà commissionarmi questa cosa, ed è un primo goal messo a segno a mio favore. Secondo elemento è che, al di là del cliente per cui ho fatto il lavoro di ricerca indotta, il portfolio stesso si arricchisce di una sezione di ricerca che non è più una sezione, è compenetrata, è ricerca creativa e testimonianza del fatto che sono capace di fare buoni lavori, all'interno dello stesso tessuto che è quello che testimonia che io sto lavorando. E quindi le foto, le immagini, che prima erano antologie di lavori sfigati, sono antologie magari di clienti non importanti, ma con lavori resi importanti dall'importanza che io gli do quando anche il cliente non avesse dato importanza. E questa cosa fa crescere il portfolio con una ricchezza, con una vitalità e con una capacità di testimonianza professionale che altrimenti non avrebbe. Buon lavoro.